Siamo a Salento, festa della Castagna, abbiamo trovato un amico di Novi Vena, il signor Angelo. Come si chiama? Sto una bambina per sapere come si chiama, Angelo di Novi Vena. Abbiamo appena, vieni qua signorina, abbiamo appena assaggiato a Murtetta, a Murtetta, in gara a Murtetta, tipica di Novi Vena. È un ottimo bicchier di vino e noi gli dedichiamo al signor Angelo, il signore che sta là. Signore Cantalupo. Andalupo, andalupo, canta con i lupi, è una bella canzone, lupino era buono con lupino, era buono. Annaggia lupino, 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 lupino. Annaggia lupino, 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 lupino. Grazie a tutti.